180.345 sogni e 15 computer con segreti che non sempre salverai dire almeno per 50 volte ti amo e finirai 300 volte da quel che dottore prenderai 60.000 piccole pilloline e poi farai prenderle anche tu riempirò quando vuoto si vuoi andrà a letto con una ventina di persone delle 1900 che avrai conosciuto in giro e cambierai una decina d'auto e coprirai quasi un milione di volte la distanza fra la luna e il tuo bar desidererai un'altra vita un'altra donna un'altra casa per tornare a fare finta che sia tua e piangerai 30 litri di lacrime ma di queste solo un litro di gioia e batterai le ciglia 400 milioni di volte verrai mille pire e duemila bottiglie di vino divino tutti questi numeri non servono poi a niente perché i conti alla tua vita potrai farli solo tu e chi non conterà su di te vedrai che non conterà mai niente venti persone chiami se ne andranno ti chiederai se c'entrerà dio o non basta un addio non basta un addio e perderai le ciglia quattrocento milioni di volte verrai mille pire e duemila bottiglie di vino che harume ebili per tooken pro型 che serve u u u Grazie a tutti.